Queste cose le fai anche quando non ti riprendono con il cellulare? Questa è buona! Faccio queste cose soprattutto quando non riprendo perché è molto raro che poi vada a pubblicare qualcosa che faccio Ci sono molte persone a cui ovviamente può non andare bene essere registrate e chiaramente in quel momento io l'aiuto, lo do lo stesso e cancello tutto quello che ho rispettato da andare È stato... È niente!